buongiorno a tutti occhiai e spaziali oggi come potete ammirare ma sono qui per mostrarvi qualcosa di unico preso la pasticceria sadaharu haoki ci sono vari punti vendita sia qui in giappone che in francia e vado a mostrarvi qualcosa che appunto davvero veramente unico guardate ho raffreddore sono stanco le labbra screpolate le occhiaie ma niente mi ferma dal farvi vedere questi piccoli capolavori guardate cioccolato questo non me lo ricordo bene che cos'è forse arancia e questo è un eclair al sakura direi che ci siamo per mostrare qualcosa di unico qui invece a fianco c'era un maccaron che ho già mangiato e qui c'è un bigliettino dei vari maccaron io direi di iniziare subito la degustazione per voi questo questa delizia inizierei sentite che voce oggi incredibile inizierei con l'eclera al sakura guardate che bello col fiorellino ma è buonissimo fantastico ma davvero mi vado a mangiare pure il fiore buono ottimo scusate che mi asciugo adesso andiamo se trovo il cucchiaino non era qua il cucchiaino eccolo qua andiamo ad assaggiare questo lo teniamo da parte già provato se non faccio un video che dura mezz'ora andiamo a provare quest'altro piccolo capolavoro di arte dolciaria buono all'arancia guarda che bello questo con il richiamo di arancia questa pasticceria merita tantissimo è buono perché non è troppo dolce si sente tantissimo l'arancia tanto 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 davvero fantastico numero uno proprio buono 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 e adesso andrò a provare madonna sentite che raffreddore anzi mi bevo un po' di tè verde anche sperando che faccia bene come dicono qualcuno mi chiedeva in un commento se secondo me il tè verde non va a coprire troppo il sapore dei dolci ma secondo me invece il tè verde è perfetto perché essendo un po' malognolo esalta il sapore dei dolci quindi è proprio la bevanda ideale e questa garancia è unico anche buono proprio che poi mi vedete lo stesso con il grande angolo un po' raffreddore oggi anche un po' d'acqua e dire adesso di andare a provare questo lo spostiamo per la nostra comodità direi di andare a provare l'ultimo capolavorino che anche questo secondo me così ad occhio proprio ad occhio perché guardate io so per l'esperienza che il cioccolato di Sadarokie è buonissimo perché guardate sia quei bastoncini sia altri tipi di cioccolato mi mancano da cioccolato e vediamoci anche questa torta tolcemo una porzione chiamiamola così è ottimo o no? chiamiamola così strepitoso buonissimo nella mia testa pensavo di dirvi che quello del cioccolato forse è quello che mi piaceva di meno perché in genere è così in realtà no è pazzesco questo cioccolato pazzesco a me non piace quando il cioccolato si sente troppo il sapore di cioccolato sapete quel sapore di cacao che poi ti resta questo è buono 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 ottimo ricapitolando eclair al sakura dolce all'arancia e dolce al cioccolato per questo video è tutto venite a visitare il mio sito www.marcotani.it e al prossimo video dal Giappone ciao 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 Grazie.